Prendono fotografia di tutto e non guardano nulla. Non sanno guardare, poi guardano le fotografie a casa. Questo vuol dire che io non tocco la realtà, non guardo le cose come sono. Lasciamo questo atteggiamento dei turisti della vita per diventare uomini e donne, giovani, che amano la vita. Grazie a tutti.